Musica Duro colpo alla criminalità organizzata nella città di Poggio Marino e nei comuni limitrofi. 26 persone finite in manette. Sequestri per circa 50 milioni di euro. Dalle prime luci dell'alba, infatti, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo nelle province di Napoli, Salerno, Imperia, Cosenza, Ancona e Reggio Emilia un'ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L'ordinanza nei confronti dei 26 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di aver fatto parte di due distinte organizzazioni criminali operanti su Poggio Marino e nei comuni napoletani limitrofi in lotta tra loro per l'egemonia sul territorio. Al sodalizio storicamente presente su quel territorio, riconducibile al clan Fabbro Cino si è affiancato e contrapposto a una nuova entità criminale con l'obiettivo di ricercare autonomi spazi delinquenziali. In tale contesto sono state documentate attività connesse con numerose estorsioni ed intimidazioni con esplosione di colpi d'arma da fuoco e un importante traffico di sostanze stupefacenti accertando canali di approvvigionamento anche con l'endrine calabresi. Contestualmente è in atto un sequestro preventivo di beni e rapporti finanziari per un valore complessivo stimato in circa 50 milioni di euro. Grazie per la visione! Grazie per la visione!